Cerasa in festa a questo fine settimana Mirko che cosa avete organizzato per la dodicesima edizione dell'evento? Allora come tutti gli anni il terzo weekend di giugno da 12 anni a questa parte Cerasa si apre al pubblico per mostrare diciamo la sua parte migliore che a partire dal cibo quindi apriamo quattro cinque osterie per offrire al meglio sia piatti della tradizione che piatti un po' più moderni diciamo e la cosa nuova la cosa bella che tutte le materie prime sono acquistate dai fornitori del territorio quindi dal pasticciere dal fornaio del paese al macellaio quindi sono tutti piatti a chilometro zero rivisitati dalle cuoche e dei cuochi del paese per offrire un buon prodotto ovviamente si mangia meglio in buona musica in buona compagnia della musica e quindi anche per quest'anno al sabato abbiamo scelto gli sciampisti che sono un po' il gruppo che va per la maggiore in questo periodo la domenica ci sarà un tributo a Ligabue il bar Mario poi dopo visitando un po' il centro storico attraverso i veicoli attraverso le mura abbiamo anche altri luoghi del paese in cui abbiamo dei vari dj abbiamo nei giardini pubblici anche dell'animazione per i bambini quindi cerchiamo di offrire un prodotto completo a che ora prenderà via la manifestazione ora l'evento comincerà alle 18 e 30 e perché non lo sapesse cerasa è un piccolo borgo situato a 10 minuti di macchina da fanno tra san costanzo e piagge vi aspettiamo quindi a braccia aperte sabato domenica alla festa dell'osteria a Ciarasa